ben trovati ben trovati a tutti quanti voi domani giorno cruciale domani è il 30 di di marzo giorno cruciale perché praticamente si chiude l'iter per quanto riguarda la cosiddetta manovra stipendi in pratica tutto quello che c'è all'interno del fascicolo potrà essere cristallizzato e quindi si avrà si avranno i deferimenti andiamo a vedere quali sono ora gli appuntamenti in pratica come io vi dicevo da tempo la juventus è tenuta sotto scacco dalla figici per non farla più vincere dal caso suarez campionato 2020 21 al caso plus valenze 21 22 al caso revocazione delle plus valenze 22 23 e ora ancora tre procedimenti tre procedimenti che secondo l'avvocato chiacchio che è l'avvocato del napoli farebbero parte di un unico disegno criminoso e quindi secondo l'avvocato chiacchio non può essere una non ci può essere una punizione superiore ai 15 punti di penalizzazione questo secondo l'avvocato chiacchio e secondo la punta di diritto anche sportivo ma questi di delle regole se ne strafottano perché fanno il bello e il cattivo tempo inventandosi porcherie e sanzioni praticamente sono tre ora i procedimenti il plus valenze bis ancora per le plus valenze immaginate un po il manovra stipendi e manovra agenti e le partnership sospette con altre società partnership sospette cioè la procura federale può aprire un procedimento sulle partnership sospette cioè qui siamo proprio ad un punto di non ritorno e la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro se la stessa juventus non si dà una calmata una regolata e soprattutto una sterzata perché francamente è impossibile poter andare dietro a queste cose fanno per non farla vincere allora gli accordi con i calciatori per il 19 20 e il 20 21 sono il cuore del nuovo provvedimento abbinato a questo tema c'è anche quello delle cosiddette false fatturazioni degli agenti questi i tempi il 30 marzo scade il termine per chiudere le indagini all'inizio del pre della prossima settimana il provvedimento verrà notificato con tutti i capi d'accusa l'udienza si dovrebbe poi tenere entro la fine di aprile va ricordato che la sentenza e l'eventuale sanzione arriverebbero a campionato in corso anche anche in questo caso si parla di pena afflittiva come già accaduto per la prima sentenza ora portata davanti al collegio di garanzia dello sport da parte della juventus ma c'è da dire che potrebbe anche non concludersi tutto in questa fase in questo campionato per cui si andrebbe al prossimo campionato in pratica la la giustizia sta rallentando sta rallentando molto perché la situazione è abbastanza particolare l'epilogo della stagione della juventus non lo conosce praticamente nessuno ma nemmeno quello per quanto riguarda l'europa i verdetti definitivi ci saranno nei prossimi giorni il mese di maggio sarà rovente se aprile sarà caldo maggio sarà rovente il procuratore federale chi ne sta chiudendo in queste ore appunto il secondo fascicolo d'inchiesta quello che riguarda in primis le manove stipendi e le partnership sospetti ma il via l'eventuale processo non sarà storia immediata anzi come pervenete dell'articolo 123 del codice di giustizia sportiva il procuratore notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini entro 20 giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini fatto in seguito dice il 123 ve lo sto leggendo al quale gli assegna un termine non superiore ai 15 giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria poi e 20 più 15 se le parti in causa prenderanno tutto il tempo a disposizione come ampiamente possibile significa arrivare a inizio maggio soltanto per conoscere i possibili deferimenti deferimenti a patto che in precedenza chi ne non decida di archiviare e gli stati non optino per patteggiare prima del rinvio a giudizio l'eventuale rinvio a giudizio quindi si va molto lontano si va oltre praticamente le vicende di questa giustizia sportiva così scandalose si annunciano quindi tortuose e poi ci sono le conseguenze eventualmente il campionato finisce il 4 giugno la juventus non conoscerà la sua reale situazione di classifica in quel giorno e come effetto domino nemmeno le altre 19 squadre a maggior ragione se il secondo fascicolo coinvolgerà altri club oltre ai bianconeri la graduatoria risulta infatti subiudice in prima istanza fino al giudizio del 19 aprile da parte del collegio di garanzia dello sport sull'attuale penalizzazione i 15 punti sempre che la sanzione non debba essere rimodulata dalla corte federale d'appello nelle settimane ancora a venire e quindi in seconda battuta fino a che non si avrà l'ultimo grado di giudizio sul fascicolo in dirittura d'arrivo le tempistiche le tempistiche sono particolari su questo fronte sono appunto quelle prospettate con il concerto in concreto rischio di vedere la bandiera a scacchi sventolata proprio a ridosso dell'ultima giornata se non addirittura oltre uno scenario quest'ultimo che farebbe inevitabilmente scivolare sul prossimo campionato eventuali sanzioni una possibilità in realtà dettata anche dal concreto dal concetto di afflittività interrogabile nel campo della giustizia sportiva se una pena stabilita entro i termini non incidesse in maniera concreta su questa serie a ecco che anche in questo caso i punti sottratti andrebbero ad appesandire la prossima classifica e non quella attuale avete capito per non farla vincere la stanno tenendo come vi dicevo all'inizio video continuamente costantemente lontano dal vertice della classifica un po ci mette anche allegri perché se con un altro allenatore la juventus che confermava in toto l'importanza del del suo organico potevano arrivare tutte le affettività che volevano il quadro è al limite del credibile praticamente alla luce del nuovo appuntamento anche con l'udienza preliminare di prisma fissato il 10 maggio la certezza che la giustizia sportiva farà il suo corso ben prima che il rigore di quello ordinario garantisca le proprie indicazioni quindi sicuramente la giustizia sportiva avrà avrà un termine molto veloce però come si dice per fare i gatti dice una firenze presto la gatta li fece ciechi no chissà che cosa combineranno chissà che cosa faranno chissà che cosa appioppieranno il tar con la juventus però è in agguato intanto stiamo aspettando la sentenza del consiglio di stato che potrebbe far saltare il banco vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube sergio vesicchio ad attivare la campanella delle notifiche e a mettere un like se lo ritenete opportuno ci sentiamo più tardi per altri argomenti grazie